E' martedì 3 dicembre, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia. Daniele Ricciuto, in apertura parliamo del piano strategico per lo sviluppo del turismo che è stato approvato ieri sera dal Consiglio regionale. L'assessore Cotugno ha detto si tratta di uno strumento destinato a gettare le basi per una programmazione per il futuro. Ascoltiamo il servizio di Anna Maria Di Matteo. Via libera del Consiglio regionale al piano strategico del turismo e della cultura, strumento indispensabile per gettare le basi di una programmazione pluriennale del settore. Uno strumento che è stato preceduto da un lungo lavoro di preparazione affidato a Sviluppo Italia e che è stato contrassegnato da una serie di appuntamenti tematici che si sono svolti sull'intero territorio regionale a cominciare dagli Stati Generali del Turismo, celebrati a termoli lo scorso mese di dicembre. Un vero e proprio piano di sviluppo regionale, come ha spiegato l'assessore Vincenzo Cotugno, dove a valle ci saranno i piani operativi e le risorse necessarie alla sua attuazione, soprattutto quelle che saranno messe a disposizione dalla programmazione 2021-2026. Uno strumento atteso da anni e che ora, nelle intenzioni della regione, consentirà una programmazione condivisa con tutte le istituzioni e gli operatori del settore degli interventi utili a rilanciare l'immagine del Molise oltre i confini regionali, varcando anche quelli dell'Italia. Ma dai banchi delle opposizioni non sono mancate le critiche. Il Movimento 5 Stelle, pur apprezzando il metodo scientifico utilizzato per la prima volta nella stessura del documento, ha tuttavia rimarcato la carenza dei riferimenti ad una programmazione operativa e non contiene, e l'accusa, elementi di raccordo e integrazione tra le politiche di programmazione del governo regionale con altri settori come le infrastrutture, i trasporti, le politiche culturali e quelle di marketing territoriale. Fino a quando la regione non concepirà il turismo come centro e approdo di direttrici settoriali differenti, non potrà fare una programmazione efficace, ha ricordato il consigliere 5 Stelle Angelo Primiani. Anche Michela Fanelli ha sollevato molti dubbi sulla reale efficacia del piano, che, ha detto, rischia di tradursi in un documento senza conseguenze e di nessuna utilità per il Molise. Non c'è programmazione, non dialoga, non si armonizza e non si incasella con le altre pianificazioni strategiche regionali, ha aggiunto la Fanelli. Restiamo fermi ad un'ottima premessa, ma senza alcuna possibilità di esplicare il potenziale del piano, ha concluso la consigliera di opposizione. Piena soddisfazione è stata invece espressa al termine della votazione dalla presidente della regione Donato Toma. Si tratta di uno strumento che finalmente traccia una rotta ben precisa per il settore turistico. Adesso, ha concluso, alivia la fase operativa. Per festeggiare i primi 5 anni di attività dell'Associazione Le Cose, a Iserni è stato organizzato un incontro con Pierpaolo Giannubilo, autore del romanzo Il Risolutore. Il nostro servizio è di Sergio Di Vincenzo. Ascoltiamo. A dieci mesi dalla pubblicazione, su invito dell'Associazione Culturale Le Cose, Pierpaolo Giannubilo ha presentato il suo romanzo al pubblico esernino. Il Risolutore, candidato al premio Strega, è giunto a un passo dalla finalissima. Un bel risultato, indubbiamente, ma per l'autore, al di là degli ampi consensi ricevuti dalla critica, conta soprattutto l'affetto e l'apprezzamento da parte dei suoi tantissimi lettori. Io sono molto contento, ho avuto la possibilità, grazie alla dozzina dello Strega e altri premi in cui sono stato finalista l'ultimo sabato scorso al premio Asti d'Appello, di conoscere tanta gente, di vedere tanti posti, di girare in lungo e largo l'Italia. e diciamo che al netto del feedback della stampa, che fisiologicamente è andato esaurendosi dopo i primi mesi, quello invece dei lettori continua ad essere molto positivo. Io sono molto felice, Manzoni, il protagonista del libro, lo è altrettanto. Tutto quello che qualche anno fa sembrava un miraggio è diventato una bella realtà. La presentazione ai Sernia del Risolutore coincide con il quinto compleanno dell'Associazione Le Cose. La scelta di Giannubilo non è stata casuale. Il 13 dicembre l'Out Out Festival sarà a Guglionesi, al Teatro Fulvio, con Ezio Mauro. Il 21 dicembre con Domenico Iannacone chiuderemo così una stagione davvero ricca di incontri con autori. Detto questo io sono onorata di essere qui stasera con Donato Giannini, partecipare a questo compleanno dell'Associazione Le Cose. Pierpaolo Giannubilo, tra l'altro per qualche anno docente ai Sernia, è tornato in città ben volentieri, svelando il senso, le curiosità e retroscena legati al suo successo letterario. Ad accompagnarlo c'era la giornalista Valentina Fauzia, direttrice artistica dell'Out Out Festival, un evento che sta portando grandi nomi nella nostra regione. Un vero piacere festeggiare questi cinque anni di associazione, di attività. ed è un'occasione più che altro per ringraziare il pubblico e i collaboratori. Abbiamo ospitato Giannubilo perché già nel 2014 abbiamo iniziato con lui, quindi ci sembrava un bel filo riprendere da dove abbiamo iniziato. Bene, con questo è tutto per l'informazione. Adesso passiamo alla rassegna stampa. Vediamo l'apertura che fa questa mattina il giornale del Molise, che si concentra sull'inquinamento a Venafro, polveri sottili al di sopra dei limiti. Questa è l'apertura del giornale del Molise. Vediamo invece adesso primo piano Molise. In apertura c'è la sanità. Caracciolo c'è l'impegno di Sileri a rimodulare il post-mossa a sorpresa dell'Alto Molise. Vertice con il viceministro che ha lavorato all'ospedale di Agnone, insieme al sindaco Marco Vecchio e anche i commissari. Conosce la realtà, la nostra realtà. Siamo fiduciosi, questo dice il sindaco di Agnone. Restiamo a centropagina con primo piano Questure, Campobasso retrocede, ma Gabrielli rassicura. Cambiano solo i ruoli, sicurezza garantita. Ieri il capo della polizia in città per il giuramento di 163 vice ispettori. Andiamo in taglio alto da Termoli. Il raddoppio ferroviario finisce in aula. La sinistra accusa Roberti, troppi equivoci. Belmonte del Sannio, centrale a Biomasse, delibera bipartisan per dire no alla realizzazione. TV, latte non solo tir dall'est Europa. A report il racconto di allevatori e casari molisani. Parliamo ancora però di sanità perché primo piano, sempre sopra il titolo di apertura, ci dà un'altra notizia. Cambiano le modalità di audizione di Giustini e Grossi. Si parla della seduta del prossimo 10 dicembre del Consiglio regionale che sarà aperta solo agli addetti ai lavori. Torniamo a centropagina. Il Consiglio regionale approva il piano del turismo tra le polemiche. Sabato il flash mob. Ecco chi sono le sardine made in Molise. Scrive, primo piano da Campobasso, ramazze e palette dopo la movida. Gli esercenti tirano a lucido via Ferrari. Sempre dal capoluogo, cinghiale attraversa la carreggiata e causa un brutto incidente. Quattro le auto coinvolte. Vediamo le notizie sportive. Campobasso, Energe saluta. Anticipo al sabato con la San Giustese. Beach Soccer, Matticoli si confronta con Pierluigi, Collina, CLN e Cus Molise. Lo slovacco, Vojto Turek, primo rinforzo. E in chiusura della rassegna dedicata alle pagine locali diamo uno sguardo alla home page di Futuro Molise. Istituzione del Parco archeologico di San Vincenzo al Volturno. Scarabeo dice la conferenza delle autonomie locali da parere positivo al testo legislativo. Che ora torna in quarta commissione. Questo è il pezzo di apertura che propone Futuro Molise. Altre notizie in evidenza. Basso Molise, controlli antidroga. Due persone finiscono nella rete dei carabinieri di Termoli. Consiglio regionale ha approvato il piano strategico regionale per lo sviluppo del turismo. Emergenza, inquinamento a Venafro. Situazione allarmante. E lasciamo le pagine locali e diamo uno sguardo adesso ai quotidiani nazionali che questa mattina sono quasi tutti concentrati sulle vicissitudini governative e sulle tensioni che riguardano il Premier Conte e i difficili rapporti con Luigi Di Maio. Apriamo con il Corriere della Sera. Conte attacca gelo con Di Maio, scrive il Corriere. Il Premier sul Salva Stati dice Tutti i ministri sapevano, Salvini gli risponde Si vergogni, bagarre al Senato. Si parla quindi dello scontro all'interno delle aule parlamentari. Il capo dell'esecutivo dice Accuse infamanti su Di Maio, il PD si schiera con lui. L'Europa apre a un rinvio di due mesi. Poi una notizia che riguarderà molte famiglie e molti cittadini. La RC Auto sarà familiare, veicoli e moto, classe unica. Cambierà il calcolo delle tariffe, il 7,30 slitta a settembre. Quindi queste le notizie dal fronte fisco. Lasciamo il Corriere e passiamo a Repubblica. Ne resterà uno solo. Questo è il titolo che fa Repubblica questa mattina sotto a due enormi foto, una che ritrae il Premier Conte e l'altra Luigi Di Maio, ministro degli esteri e capo del Movimento 5 Stelle. Rottura Conte Di Maio, scrive Repubblica. Sul Salva Stati il Premier attacca il capo dei 5 Stelle e Salvini. Tutto il vecchio governo sapeva dell'accordo dall'Europa. No al rinvio dell'intesa, ma Gualtieri chiede modifiche. Il leader di Italia Viva, Renzi, dice così non dura. E lasciamo anche Repubblica e andiamo invece al Fatto Quotidiano che ha un altro tema questa mattina in prima pagina, in apertura. È un sondaggio su prescrizione e manette PD e Lega bocciati dagli elettori. Il 57-58% degli italiani dice sì al blocco dell'impunità e al carcere agli evasori. Questo scrive il giornale di Marco Travaglio. Dem, Renzi, Salvini e Forza Italia combattono la spazza corrotti. Ma chi li vota li sconfessa. Il 53% degli italiani promuove il governo Conte. Due pure su confische e contanti. In taglio alto poi la notizia che riguarda il governo. E il premier MES Conte sbugiarda 26 volte Salvini. La Lega era d'accordo. Ecco le prove. Il premier elenca tutti i casi in cui informò alleati e parlamentari. E lasciamo anche il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere l'apertura che fa questa mattina l'avvenire. Il quotidiano dei Vescovi sempre sensibile al tema ambientale. Agire o disastro. Questa l'apertura. Appello del segretario generale ONU all'apertura della conferenza sul clima. La presidente della commissione UE fra pochi giorni dice il varo del Green Deal a Madrid la COP25 contro il riscaldamento globale. Ma Cina, India, Russia e USA frenano. Anche la politica in prima pagina su avvenire. Chiaramente Conte sul MES tutti sapevano e scontro in Parlamento le opposizioni contro il premier. L'Europa pronta a concedere due mesi. E lasciamo il quotidiano della conferenza episcopale italiana e andiamo al mattino di Napoli. Doppia apertura. La prima sul fronte. Governo Conte, Gelo con Di Maio. I ministri sapevano scontro sul salva stati a fondo del premier in Parlamento. Il leader del Movimento 5 Stelle fa asse con il PD. Vediamo invece la seconda apertura di taglio calcistico. La resa dei conti nel Napoli. I giocatori sfidano Ancelotti. Duro faccia a faccia. Gli azzurri dicono siamo poco allenati e il modulo va cambiato. L'allenatore invece accusa non avete mentalità vincente e ordina il ritiro da domani. Vediamo invece l'apertura del manifesto che come l'avvenire apre sul tema ambiente. Il clima non è buono, dice il quotidiano comunista. Il mondo deve scegliere tra speranza e capitolazione. Il segretario generale dell'ONU, Gutiérrez, apre la 25esima conferenza sul clima e lancia un appello agli stati. Basta fare la guerra al pianeta. Sul tavolo la riduzione drastica delle emissioni inquinanti e il via alla transizione energetica. Restiamo sempre sulla prima pagina del manifesto con la politica. Conte sfida Salvini ma Di Maio si sfila. Salva stati, scontro in Parlamento. L'attacco del Premier al leader leghista. Gela i 5 stelle. Vediamo invece il quotidiano romano Il Messaggero che apertura fa. Anche qui lo scontro nel governo Conte e Di Maio. Il governo trema, salva stati, affondo in aula. Tutti i ministri sapevano, dice il Premier, gelo del leader del Movimento 5 Stelle. Fa esse con il PD Salvini e Meloni. Lui mente, dicono i leader del centrodestra. Renzi aggiunge, allora meglio andare a votare. Il Premier chiede l'aiuto dell'Unione Europea. A centro pagina una drammatica fotonotizia che arriva da Roma a Qualta. E Roma affonda, metro chiuso e negozi allagati per un acquazzone di un'ora, scrive il messaggero. Andiamo avanti, vediamo come apre l'altro quotidiano romano. Il Tempo Conte si è messo nei guai, quindi un'apertura che riguarda sempre i problemi all'interno del governo. Il Premier cerca lo scontro personale con Salvini, ma sul salva stati non spiega nulla. Il Movimento 5 Stelle è deluso dalla mancanza di chiarimenti. Il PD irritato, ora la crisi è più vicina, scrive il Tempo. Vediamo invece l'apertura della stampa, anche sul quotidiano di Torino, il tema è sempre lo stesso. Di Maio Conte scrive, la stampa è in apertura questa mattina, il grande gelo. Così Salvini si prende tutto. Il leader leghista, dice il capo del governo, è bugiardo. Marcucci del PD aggiunge al prossimo voto, rischio crisi. Il Presidente del Consiglio invece replica, tutti sapevano del mess. Lasciamo la stampa e adesso andiamo a vedere l'apertura di Libero. Il salva stati fa schifo, lo pretende solo Conte, scrive il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Il Premier parla a Vanvera. Giuseppe attacca Meloni e Salvini, ma non spiega perché difende un fondo uccidi risparmi. L'Unione Europea, dice, è già approvato. La Lega invece propone una raccolta firme per bloccarlo. Un'altra carta, scrive sempre Libero, inguaia l'avvocato del popolo. Renzi dice, non so se regge. Vediamo adesso dopo Libero l'apertura del secolo d'Italia. Noi per l'Italia, voi contro, Giorgia Meloni, svela ai lettori del secolo le troppe bugie raccontate dal Premier, quindi si ritorna anche sul secolo, sul dibattito parlamentare che c'è stato ieri sul mess, sia alla Camera che al Senato. Vediamo la verità. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro traballa la cattedra di Conte, scrive in apertura la giornata nera dell'avvocato del popolo Giuseppi, scrive la verità. Va a difendersi in Parlamento sul fondo salva stati, nulla di deciso, non ha tradito il mandato, ma viene sbugiardato in diretta da Eurogruppo. e Lega e Leiene scoprono un documento che mette in dubbio la sua nomina come professore all'università. Scontro con la Meloni e Salvini, il senatore dice, omente il Premier, omente il ministro Gualtieri. Vediamo le notizie economiche adesso con il sole 24 ore. Fondo salva stati, scontro alle Camere, l'Unione Europea va verso un mini. Rinvio l'informativa sul messa alle Camere. Conte dice, tutti i ministri sapevano, nessuna firma. Salvini dice, si vergogni. Il governo rimane diviso, lo spread chiude in rialzo. Balzo dei rendimenti BTP. Poi si parla di fisco. Rate al fisco, tetto del 3% sui tassi, appalti ammorbidita. La stretta, scrive il quotidiano di Confindustria. E in chiusura della rassegna stampa, andiamo come di consueto alle notizie sportive con la Gazzetta dello Sport che questa mattina fa una doppia apertura. La prima dedicata al fenomeno Inter, Lautarone, scrive in apertura la Gazzetta dello Sport. L'argentino piace a tutti, ma il club vuole blindarlo. È il numero uno tra i giovani che più hanno alzato il loro rendimento. Verón, vi spiego perché è così forte. Mercato, il Parma apre per Kulusevski. L'altra apertura, invece, riguarda il sesto pallone d'oro per Messi. Messi, sei d'oro. Ira della Juventus. Leo conquista il sesto pallone d'oro, nessuno come lui. E sorpassa Cristiano Ronaldo, che ieri si è classificato terzo. La sua assenza non è un problema. I voti e il ruolo degli sponsor. Lo juventino. De Ligt, incoronato, migliore Under 21. Bene, con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti, buona giornata.